Botta e risposta fra la Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Programmazione Territoriale presieduta da Cristina Malluzzo e il Gruppo di Lavoro per il Porto. La Garell nasce dalla richiesta avanzata dalla Commissione di cancellare il Gruppo di Lavoro perché è stato costituito ancora prima che venissero formate le commissioni. I rapporti istituzionali, sostiene la Commissione, devono essere mantenuti da noi. Questo Gruppo di Lavoro non ha più motivo di esistere. Immediata, come dicevamo, la replica di alcuni componenti del Gruppo di Lavoro nonché componenti del Comitato per il Porto di Gela. Non capisco perché l'eliminazione di questo tavolo da lavoro, a chi dia fastidio e perché sta dando fastidio. Mi stranizza che questa eliminazione arrivi proprio adesso che abbiamo concluso quasi tutto e quindi abbiamo portato un buon risultato e subito dopo il discorso del project financing a cui ci siamo opposti un po' tutti. Quindi mi è strano che dei consiglieri arrivano e propongono l'eliminazione di un gruppo di lavoro che va cancellato addirittura in quanto inutile, che non serve più. Anche se secondo me non è per niente inutile, ha senso di esistere fin quando a Gela esisteranno i porti. A prendere le difese del gruppo è stato anche il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Cia, la quale nell'elogiare l'operato svolto fino ad oggi dallo stesso gruppo ha sottolineato che la sua costituzione è stata voluta dall'assise civica e oltre a far parte del gruppo alcuni operatori del settore ne fanno parte anche alcuni consiglieri comunali e i deputati del territorio. Pertanto, dice, il gruppo non si tocca. Noi abbiamo lavorato un anno e mezzo per l'interesse della città, a spese nostre autotassandoci e oggi che siamo arrivati quasi al traguardo c'è l'interessamento di questi politici. Ma che vogliono fare? Che cosa vogliono fare? Non lo stiamo capendo. Che interessi hanno? Nel gruppo di lavoro sono presenti diverse forze politiche, le maggiori forze politiche rappresentate nel Comune di Gela, ma non hanno mai manifestato una fase di campagna elettorale del gruppo. Abbiamo lavorato sempre in sinergia, quindi non capiamo perché. Se c'è qualcuno che ci deve remare contro, che venga e ce lo venga a dire. Noi faremo di tutto, di tutto per arrivare al nostro scopo, cercare di riportare un borto a Gela. Siamo stupiti perché il nostro gruppo di lavoro alla fine è l'unico tavolo di concertazione vero che c'è all'interno del Comune di Gela. Ribadiamo che è a costo zero e se facciamo il paragone con le varie commissioni, compreso quella urbanistica che sono presenti al momento, abbiamo portato un risultato che non è paracolabile a nessuno. C'è la conclusione di un ITER dopo 40 anni per il porto rifugio di Gela. Secondo me l'attacco è più politico, perché si riferisce magari all'attacco che abbiamo fatto noi, che volevamo essere messi al corrente sul project financing, che anche quello ci stupisce perché davanti a tutti il sindaco ha dichiarato che erano solo chiacchiere e poi viene smentito di nuovo dal vice sindaco l'indomani. Per la prima volta forse li vediamo separati questa amministrazione siciliano-messinese. Grazie a tutti.